Sabato alle 15.30 nella Chiesa dei Santi Lorentino e Pergentino della Fraternita dei Leici inizia il progetto Piuma dedicato ai ragazzi di Agazzi. Di cosa si tratta? Concretezza. Un esempio per passare dalle parole ai fatti. Esiste in Arezzo un buon rapporto tra la misericordia di Arezzo e l'Istituto Agazzi per la tutela socio-sanitaria della nostra comunità. Questo è il primo esempio. Allora noi facciamo un appello alle famiglie, alle aziende di Arezzo. Ci fa comodo qualsiasi materiale di recupero. Per voi potrebbe essere inutile ma noi possiamo lavorarlo. Quindi stoffe, merletti, nastrini, bottoni, cartoncini, colori, tutto ciò che avete e che a noi potrebbe far comodo ce lo potete portare. L'accentiamo che volentieri. Grazie. Per dare la leggerezza, per dare un senso di leggerezza a questi ragazzi che appunto che hanno disabilità e a volte ancora la società spesso e volentieri non è pronta ad includerli. La creatività non ha disabilità? Assolutamente. Bellissima questa. La creatività non ha disabilità. E quello che noi vogliamo fare appunto è iniziare sabato un nuovo percorso. Ora cominciamo in questo modo, in maniera lenta e sicuramente avremo anche qualche sviluppo su questo aspetto qui, proprio perché la misericordia ha ormai intrapreso un percorso di cui non si può tornare indietro. Le persone che verranno coinvolte in questa splendida iniziativa sono state selezionate sulla base di interessi, preferenze, desideri, inclinazioni, in questo caso in ambito espressivo artistico e poi faranno le attività in un ambiente comunitario e quindi inclusivo.